La stoppatona di Graciulis, che prende il tempo, annulla tutto. Palone per Watt, che fa saltare Miki. Arriva il pallone, dentro per Jolson, che fa schiacciare. Gudmundson si butta dentro, canestro complicato, ma trovato. I won't quit when I hit the stage, it's gonna be a knockout. I'll never walk away from a challenge, tell me now. Roldi Senchieri ha parlato lunga per mandare a schiacciare Mame Zayde. I'm burning everything upside down, I'm the one to blame. It's my fault, you will never forget my name. It's your call if you really want to play it safe. Passaggio dietro alla schiena e la schiacciata di Radonovich. I come back around, who wanna face me? Bring them out, bring them out. I can hear the crowd screaming loud, so I'm ready now to win the crowd. It's gonna be a knockout. Della Valle va in avvicinamento, serve Odiosi! Che schiaccia sopra Dain, sbrucciando la sirena. Spegne la luce Jordan McKee. Fick and roll traveroni Hainz, un palleggio, poi l'avvicinamento! Ma Odiosi lo cancella! Messe in buca al cuore, isolato con Berlinelli, lo attacca uno contro uno. Alza la parabola! Andgушa! Ehi, yuka! Lies! Ehi, yuka! Lies! Ehi! Ehi, yuka! No, 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 no.